ESAC si propone come principale driver per lo sviluppo della filiera del turismo, dell'economia, ma anche del turismo del territorio della regione Campania. E proprio in questa ottica si inseriscono tutte quelle iniziative che sono volte a valorizzare quello che è il patrimonio non solo archeologico, come fatto per esempio con il percorso archeologico che abbiamo realizzato all'interno del terminal, ma anche altre iniziative volte a valorizzare appunto la cultura e l'arte di questa città. E proprio in questo contesto si inseriscono le mostre che organizziamo all'interno del nostro aeroporto, in questo spazio all'arte che abbiamo creato, dove ospitiamo vari artisti internazionali.